Noi non siamo la Cina, sfortunatamente per voi, noi abbiamo una Costituzione che ci protegge e quello che conta l'Italia è la Costituzione e non sono i politici che si interscambiano i favori e si interscambiano i poteri Noi non siamo la Cina, non lasciamo morire il medico che ha denunciato il coronavirus Non censuriamo i sopprusi, anche se ci state provando Noi nonキarare il mondo e questo è semplice Quattro è siamo stati i nostri amici. Nasi sono i dottori e i Forsori, di avevo i autori e non pubblico. Nasi noi non scaricere il dottore il nostro di religione, di investimento e di richaggio. Nasi noi anche non costruire il nostro negocio 台灣獨立我也支持 西藏香港獨立都支持 擺脫共產黨的邪惡手抓 腐敗的政權 邪惡的社會 沒有一個人可以自由發聲 沒有一個人 只有一個 一個人自由發聲 就去去 警察局喝茶 拘留 判刑 法律是他們辦的 davvero é aquilo que volete davvero pensate che noi italiani siamo come i cinesi davvero pensate di violare la costituzione e di non pagarne le conseguenze davvero pensate questo davvero pensate di utilizzare metodi di un paese dove la pena di morte è segregata davvero pensate di mantenere governi dove nessuno vi ha votato dove avete mescolato le carte e dove non avete mantenuto nessuno delle vostre promesse. Davvero dopo questa esperienza pensate che ancora la gente vi crederà. La gente non è vero, è vero, è vero. mi ha fatto io ho fatto non si può stare ora ora si è stato e non voglio fare e non voglio fare 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 per la questa e di un'altra voglio fare I ammbracciamme! I ammbracciamme! Il bisogno di tenere! Il bisogno di tenere! Non può non essere così fai l'ho! Non può essere così fai l'ho! Per la prima volta! I ammbracciamme! Grazie a tutti.